Una banda organizzatissima che aveva colpito anche in Francia e Spagna, specializzata nei furti ai postamat. I carabinieri però, dopo averli arrestati, sono riusciti a ricostruire la loro attività ed ora i 3, 24, 40 e 36 anni di nazionalità romena e moldava sono finiti in carcere. Le indagini erano partite dopo il colpo messo a segno all'ufficio postale di Gallicano. Un furto con scasso davvero particolare, condotto tramite l'utilizzo di un software che hanno accertato i carabinieri, era stato assemblato in Romania. Sostanzialmente si trattava di un gruppo criminale specializzato nel tipo di furti denominato jackpotting, che non è altro che applicare, fare dei fori al sportello ATM, scollegare i cavi dell'ATM e collegarlo a un loro dispositivo chiamato black box, con il quale i malviventi riuscivano ad impartire attraverso malware il comando di erogare completamente il denaro che era contenuto all'interno del post a Malta. Con questa tecnica i malviventi hanno messo a segno furti anche alle poste di Pietrasanta e Pescaglia, ma anche fuori provincia, arrivando a rubare in poche settimane 80.000 euro. Fino al colpo del 15 ottobre all'ufficio postale di Segromigno, quando furono sorpresi ed arrestati dopo un lungo inseguimento proseguito fino a Viareggio. Proprio a Viareggio c'era la base della banda, nell'abitazione di uno dei tre, gli altri due erano residenti in Piemonte. I banditi erano stati posti inizialmente ai domiciliari, adesso dopo gli accertamenti per loro si sono aperte le porte dei carceri di Lucca e Vercelli.